Zanetti uno pulito in tutti i sensi è il giocatore che ha messo più volte la maglia della nazionale però è un giocatore molto completo tu sei forte, però io sono più forte che tu lui crede di essere un cantante Javier è pazzo vai avanti, dribbola ne uno in più e fai il gol la protezione destro, bellissimo e lo spettacolare gol da parte di Zanetti io aiuto il sogno, la migliore sensazione che un entrato può avere grazie